8 espulsioni, 147 persone identificate di queste 50 extracomunitari, 3 persone denunciate a piede libero, 3 segnalate per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale con contestuale sequestro di droga, 3 esercizi pubblici controllati e 9 clienti identificati, 35 posti di blocco effettuati, 1993 veicoli controllati e 14 contravvenzioni staccate. Sono i risultati dei controlli straordinari del territorio coordinati tra tutte le forze di polizia effettuati dal 27 aprile al 4 maggio. L'attività predisposta dal prefetto di Como, Ignazio Coccia, a partire dallo scorso novembre ha coinvolto in questo caso 47 pattuglie e 115 agenti. I servizi hanno interessato la bassa Comasca, il Canturino e la Brianza e le forze di polizia sono state impegnate nel pattugliamento delle principali arterie di collegamento e delle aree maggiormente interessate dalla criminalità. Particolare attenzione è stata rivolta al fenomeno della prostituzione e al controllo di cittadini stranieri irregolari sul territorio con l'espulsione, come detto, di 8 persone in una settimana. I controlli coordinati rivolti a contrastare anche i furti in abitazione e lo spaccio di sostanze stupefacenti proseguiranno nelle prossime settimane. Grazie a tutti.